Studenti universitari in piazza oggi all'Aquila davanti all'emiciclo per protestare contro la mancata erogazione di borse di studio che gli studenti attendono da dicembre. 370 è il numero che riguarda la città dell'Aquila, 367 dell'Ateneo cittadino, gli altri sono di Conservatorio Casella e Accademia di Belle Arti. Sono i cosiddetti donne non beneficiari, cioè gli studenti che, pur avendo diritto, non possono ricevere le borse di studio a causa dell'insufficienza di fondi stanziati dalla Regione Abruzzo ad organizzare il sit-in di protesta in Regione Ludo, l'Unione degli Universitari. Noi siamo qui oggi davanti all'emiciclo tra 20-30 studenti con queste tende per manifestare contro il fatto che ci sono in Abruzzo 2.000 studenti idonei non beneficiari di borsa di studio, ovvero studenti che sono lasciati senza quello che per Costituzione dovrebbe essere lo strumento che lo Stato garantisce per continuare gli studi universitari. Sono 2.000 studenti in tutta la Regione, 367 all'Aquila e in particolare in questo anno difficile per tutta la popolazione italiana lasciare 367 studenti all'Aquila senza gli strumenti economici per continuare gli studi rappresenta davvero un grave vulnus da parte della politica regionale. A Teramo la problematica investe 317 studenti, 1.300 sono invece quelli degli atenei di Chieti-Pescara, i più in sofferenza sono i fuori sede su cui grava anche il fatto di dover pagare l'affitto pur seguendo la didattica a distanza. Noi chiediamo innanzitutto di essere incontrati, abbiamo inviato una mail nella giornata di ieri al Presidente della Regione, l'assessore quaresimale competente per le borse di studio e a tutti i consiglieri regionali perché chiediamo di esporre loro quale sia il problema e ovviamente chiediamo la copertura totale di tutte le borse di studio.